ecco questo qua e questo qui è veramente l'alveare 1 quando si contano queste cose qua cos'è il stino ferino o cristoforo colombo mi sono cieca tutto sto chiesto coso giallo no non mi dite che tipo il sangue di zombie su origins c'è perché dovrebbe essere la modalità più bella del mondo se così andiamo a fare una prova ma voi non avete preso la tipella è stato essere proprio alternativi ma dove sta l'elicottero qua che figata l'animazione sopra sembra tipo eccolo qua l'elicottero vai questa cosa la posizioniamo qua la vogliamo qui un attimo poi al massimo riprendiamo giù e dove prende i oh sto scherzando ah lol sto sperando qualcosa il tuo scorpione abbiamo sistemato le scorpioni oddio questo è fare una cosa gialla oddio quanto sei brutto una figata raga vai ok finito le munizioni prendi l'armetta vai vai veloce madonna quanto sciopta è fortissima e crepa però bisogna ha bisogno sparare la mesa dove sta il simboletto quello col muro crepa signore ho lasciato le munizioni mamma mia che compagni di squadra intelligenti ho come vede si bisogna sparare quel coso la dai io dopo gli spariamo però non mi va sparategli voi che c'ho vede i peggio munizi io non c'ho niente sto proprio accorto che è sto schifo oddio via via scappa 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 che sto morì via no 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 non fai distruggire oddio ti è crepa ma già finito le munizioni ma che è sto schifo non ha senso aspettate prendiamo sta cosa qua lancia boom mi diverto a fare queste cose raga eh non stare a scherzare voglio ma non c'ho voglio quello sta a sparare le gota al muro là si va io sta andando però non voglio prendere la anzino sapete che vi dico lanciamo le munizioni però no aspetta lanciamole più verso là guardate che casino che stanno a fa questi scusate un attimo eh bravi o oddio vai 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 attenzione via ascea ria guai quì c'è casino io non mi andrei tanto da adentrare allora ma è un po' morta consigliare di sparare il coso la cosa sei tu un uomo un topo oddio mi sa che su sta memma se muore tipo è una memma mortaia ok esploso l'elicotteri Chissà perché Ok sto morendo Però ci mette un po' tempo per recuperare la vita Per i miei gusti gustati Non è morto E crepe Dai che sei proprio Proprio andato Io mi prendo sto coso qua Finisco sti colpi Poi vado Però non ci sono più nemici Vai Ared Fai mostro schifo Vabbè madonna deficiente Pialo Ah non c'è soldi lol Ecco perché Allora premi Select per punti di abilità Lol Che figata Ah tipo così le ho metto E' quello che vi dicevo prima Vedete che sono troppo forte Tipo così tu aumenti Di livello le Le tue specialità Qualcosa del genere Perché Non so che serve Allora Non ho più soldi per comprarmi le armi Se voi non mi fanno uccidere qualcuno Io lo vedo un po' Ah ma sei proprio stronzio Le compagnie di squadra E' proprio marci Mori Sta pistoletta epica Ancora 1.3 sto Dai Oh No non so troppo Stavo scherzando No no Voglio bene Voglio bene Voglio bene Guardate il mio braccio Tieni Vedete ma ti muore Allora Sei morto amico Ok Vai Oh questo qui è l'elicotto E' un altro Oh Dio Vai Mi stamara Ma mi sa che sono tipo delle ondate Tipo su Non so Non c'è quello niente Perché non ci sta Non è tanto chiara Il cosa Il L'interfaccia Diciamo Il dito più veloce del west Vai Quasi che sono tipo scorpioni Cosa sta io Oh mannaggia Tu sei grosso E' ricaica però Ricaica Dai c'ho i punti per prendermi la cosa No copritemi Oh compagno di squadra Dementi C'ho Fammi prendere il coso qua Come cacchio si chiama Vector Vai T'acendo Ma che fai E mori Bravissimo Andiamo avanti vai Ah bisogna prendere la trivella Chi la prende Dovamente io Perché questi cosi sono dementi Non ci penso A mettere la trivella Vai le munizioni Che culo vai Alleluia Ce l'ho pure per questo letto No quello è morto Cacchio Allora Si sta facendo un po' più difficile la cosa Allora Io direi di finire questa ondata Qua perché Oh che è Ma mi sa che sono l'arri in mano Ok l'arri in mano Perfetto Oh sto morì Che è Mamma mia Attenzione 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 Sta facendo difficile lo schifo qui Io vorrei soltepassare quel muro Alla per far vedere com'è Rica ma stanno a sparare gli scorpioni qua E crepa Ostia E non muori Oh Ah meno male Questa mi sta a dare una mano Vedete Almeno qualcuno che Un po' Un po' di cerverlo ce l'ha Ok Ti avuto io Tranquilo amico Non temere Ok non ce l'ho fatta Scusa morirai E crepa Ok Ora Ti do un po' che fare Salute sta abbastanza bene Tanto che Vai Meno male Meno male Questa arma Non c'ha tanto Nel culo Sennò era un casino Perché C'è un Oh che cacchio Sei morto Sì grandissimo Vai Vai avanti Guarda le scorpioni schifosi Mi stanno attaccando il mio elicottero Ok io dovrei sparare al muro Regà Però non me va Allora ricarica qua No Ma sta cosa è tipo di incolla al pavimento Che succede qua Che figata Trappola di fuoco Tipo Epico Oddio Da pure soldi Io dovrei sparare sta cosa Dai spariamo Veloce Spara 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 Bisogna sparare qualcosa là Possibile che nessuno l'ha capito Sono l'unico intelligente Ma che so Sono proprio meglio Ok ricarica qui Dai spara No Mannaggia Si pezzi di cacca Tu stai Che ti vedo l'omba Però non ti vedo Eccolo qua Vai Continua a sparare Continua a sparare Oddio che casino Oh No no Mi sono chiuso Via Mi sono chiuso Mi sono chiuso Via Via Oddio via Allora attenzione E spariamo a sto muro schifoso Madonna No No Mi sono chiuso Ok ho fatto un casino In questa terrappola di fuoco Mi sono chiuso Se vedete E poi no Aspettate Vai Arato Vai muori Muori Che figata Ragazzi la nuova Oddio La nuova 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 Accoltellamento Si dice Accoltellamento Boh Chi lo sa Già Già Muori Muori Ora Ma sei stupido E muore L'ho detto Bravo Stanno aiutando un po' più forti Come ho detto io Ok ora Quello è uno scorpione Arato No non è vero Sapete che mi sa che posso ricaricare Mentre corro Ok mi sa che si Ah Ho capito Regà Le cose che noi Prima quando abbiamo select Sono di quei perk Mi sa che è proprio così Allora mi sa che io devo sparare qualcosa là Ok non ho più munizioni Non ho un problema questo C'è una zanzara del merda Conto le odio Oppure d'inverno Ci stanno Vai No Quello è quasi morto No 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 C'è un casino C'è un piccolo casino Io non ho più munizioni Ok Ok vai Ah vedi l'animato vuoi Sì perfetto Abbiamo la trivella qua Ok il mio guardo è aumentato Allora Travaglio sta cosa Allora Oh tu chi sei Copritemi però Che posso mettere la trivella Vabbè Come la metta Vai veloce veloce No i soldi che stanno lì Stai poi bonus Grazie la trivella qui Tunze Tunze Ok ora E Dobbiamo andare là Fatemi Se lo prende solo Timmi caccia Ah bravissimo Ok Bella Navigata Ok Allora la trivella Sta perforando Ora Unico problema Io Opterei per Oddio Per rimanere qua dietro Perché Ecco infatti Vedete che lo è intelligente Per esaminare Che bisogna esaminare qua Il designatore L'assessore Soflam Cos'è Che figata No È tipo Javelin No Va tipo È lo stesso rumore Del javelin No sto morì Sto morì No 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 Via 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 Sono morto Via sono morto Via No No Non voglio morire ora Eh sono morto Mannaggia voi Datemi una mano Mi prego Amici amici miei Dai che se le provo Lo so io Che se le forti Provano No No hanno ucciso E danni Due deficienti Cioè Due deficienti Due deficienti E veramente Comunque ragazzi Questo qui era Il video Sono quello che ho fatto Più qui Non è vero Sono arrivato secondo Praticamente Però sono andato a terra Meno di tutti Troppo forte Già smatto Quindi io vi invito A passare il mio canale Se questo video è piaciuto Vi invito a lasciare un altro Mi piace Se questo video è piaciuto Andiamo a dire Così a un like Mi piace E poi Allora È un po' Che ho sbloccato Istinto ferino Vabbè insomma Io uscirei Perché se no Casino Comunque Ditemi voi Cosa ne pensate Di questa modalità Extinction Estinzione A me sembra veramente Una gran modalità Bisognerà scoprire Nel corso del tempo Quindi è meglio così Quindi Da mate è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Che sarà forse Il mio canale Forse qui su Petros Da mate è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao